bentornati sul canale non aprite questo blog io sono il gonz e oggi vi voglio parlare io sono il gonz e oggi vi voglio parlare e oggi vi voglio parlare di spaghetti horror e della collana horrible tapes e di sei film che mi hanno inviato e che sto vedendo c'è che ho visto quasi tutti e che sono veramente ma qualcosa di superlativo veramente c'è c'è qua c'è il cinema proprio c'è il cinema è fantastico per chi ama l'horror sono veramente delle chicche ora li vediamo adesso li metto in che ordine ve li racconto piri piri pam piri piri pam così così ok ve li racconto così poi ce ne sono un paio che non ho visto poi li scoprirete allora sotto al video trovate il link per acquistare questi dvd in singolo o in combo considerate che le combo esistono anche in versione limited per alcuni film leggete bene insomma se siete curiose se siete interessati potete comprare sia il dvd con poster eccetera eccetera e qualche gadget e la vhs cioè la vhs del film io non so cioè queste robe mi mandano veramente fuori di test troppo troppo bella l'idea troppo veramente da amanti del cinema or del cinema di una volta primo film cazzo ragazzi spookies spookies è un film assurdo che ho recensito sul sito di non aperte questo blog quindi se volete sapere tutti i dettagli andate a leggere un po la recensione senza spoiler non vi spoilerò niente vi posso dire però una cosa che è stato girato nel 74 mollato lì insomma ha avuto i suoi problemi un montatore l'ha preso l'ha finito di montare ha girato altre scene è venuto fuori un casino nel senso che la trama è un po stramba c'è in un certo senso è anche semplice ma in altri momenti a fuori di testa cioè ti chiedi che cosa c'entrano certe cose e questo secondo me gli ha dato gli ha dato quel tocco in più secondo me di follia non solo questo è un film che è il film con maggior numero di effetti speciali che io abbia mai visto c'è di tutto morti viventi morti viventi che soffrono di flatulenza streghe donne ragno c'è la trasformazione di una donna ragno ragazzi che è qualcosa di fenomenale sia la trasformazione sia proprio il pupazzo cioè qualcosa di incredibile altri personaggi sono fatti malissimo altri sono fatti benissimo ci sono effetti da tutte le parti ci sono così tanti effetti in questo film che ogni azione che vedrete vi chiederete adesso che cosa esplode che cosa si scioglie che cosa si non lo so se si uscirà del sangue da qualche parte perché veramente è una cosa incredibile il film di per sé non ha un grande valore dal punto di vista della sceneggiatura o della recitazione dove appunto vengono fuori le sue lacune è un film un po trash ma vi assicuro che è un fottuto cult questo questo è un fottuto cult dentro c'è la magia del cinema che secondo me a volte si traduce anche in quella situazione per cui diciamo le vicende che hanno portato alla realizzazione del film sono più assurde del film e questo è un film assurdo con un travaglio incredibile consigliatissimo bellissimo è un film comunque trash comico cioè horror comedy trash con tantissimi effetti speciali bellissimi ragazzi c'è da da ridere ma anche da rimanere a bocca aperta per la bravura e il grande impegno ci sono tante citazioni al cinema antecedente horror quindi a casa evil dead di tutto da zombie a gremlins qualunque cosa da avere di questo anche il vhs mannaggia a me che non me lo sono portato giù per farvelo vedere ho anche il vhs purtroppo non ho il lettore vhs perché sto facendo fatica a trovarlo solo in quella casa che poi in realtà è un altro di quei film che subisce un po titolo c'entra un cazzo insomma il titolo originale dovrebbe essere ai madman è un film dove praticamente il fantastico dei libri si mescola con la realtà c'è un villain villain che è qualcosa di incredibile perché uccide le sue vittime e gli stacca i pezzi di faccia per attaccarsi di lui ed è veramente veramente molto bello ci sono tantissime trovate cinematografiche che gli amanti del cinema di genere apprezzeranno ed è un film anche girato girato bene girato proprio bene questo non è trash ecco a tante robe veramente strafighe no ecco questo villain qua ragazzi è fenomenale una specie di frankenstein al contrario cioè che si ricompone dopo solo in quella casa vabbè dentro sono molto semplici le edizioni però chi se ne frega insomma spaccano passiamo no già questi due sono due bombe però adesso passiamo altri altri un'altra roba incredibile incredibile questo è ho un vaghissimo ricordo di questo film per cui ho dovuto rivedere perché è proprio un voto totale la locandina il poster è molto famoso molto noto e supermarket horror anche questo viaggia tra il trash e anche delle figate praticamente c'è un centro commerciale molto bello molto grande che decide di adottare dei robot guardiani notturni infatti veramente molto bene sono il classico robottino del cazzo come se lo si immaginava una volta negli anni 80 però è sono fatti bene insomma sembrano veramente di metallo insomma gli effetti sono belli in questo film classico gruppo di ragazzini che rimane la notte nel centro commerciale per fare i cazzoni per ciulare per far festa insomma anche se poi alla fine sono tutti i bravi ragazzi non sono dei teppisti queste tre coppie finiscono poi per appunto avere a che fare con questi robot che impazziscono vabbè non ve lo dico comunque sarà una mattanza è una grandissima e lunghissima corsa la sopravvivenza è la cosa impressionante intanto vabbè la la figaggine di questo film è che veramente un film anni 80 al 100 per cento e poi è molto molto dinamico action non è per nulla noioso è molto dinamico ci sono un sacco di cagate nel senso cose che che mi faranno ridere la realtà perché questi film non capisci mai quanto volessero veramente prendersi sul serio secondo me è poco ed è veramente piacevole da vedere per me è un caltone ci sono dei momenti leggermente or nel senso che riescono quasi quasi veramente riesco anche essere un po ormai ma proprio appena appena però c'è tanto sangue c'è tanto c'è ci sono teste che saltano per aria ragazzi fatte venire c'è cose comunque goduriose fighissimo super market or tanta roba bellissimo un altro colpaccio della spaghetti horror italia e questa è una delle uscite e non so esattamente quali di questi film sono in vhs comunque poi nella descrizione del video troverete tutti i link e scoprirete poi quali ci sono anche in versione vhs e poi gli altri due non li ho visti ma vi dico un paio di cose lo stesso questo mi ha lasciato veramente sgomento veramente una cosa the horrible house on the hill è un film slasher del 1974 che ha avuto la sfortuna diciamo di uscire con un grandissimo film slasher che è the texas chainsaw massacre chi se l'ha detto nel modo giusto vabbè non aprite quella porta dai da cui tra l'altro noi ci siamo ispirati per il nome del blog è uscito lo stesso anno non è un film che ai livelli di non aprite quella porta neanche lontanamente ma è degno di nota quanto gli altri film che vi ho citato e in generale è un cult secondo me perché è un cult fondamentalmente è un film ricco di errori e strafalcioni quindi da considerarsi quasi un flop un film venuto male nonostante ciò la storia è intrigantissima la sua applicazione è intrigante e ora ve la racconto un gruppo di ragazzini direi più bambini ed è questa la cosa inquietante riesce dopo un incidente a scappare dal proprio tutore perché sono questi ragazzini provengono da un centro di malattia mentale sono dei folli finiscono per chiedere asilo insomma aiuto in una villa molto lussosa di un certo papa doc che è questo signore che si è fatto da solo ricco che tormenta i suoi parenti i bambini entrano in questo contesto familiare e iniziano a vedersi cose strane accadere cose strane finché alla fine non verrà fuori la vera natura dei bambini che a quel punto esploderanno nella loro follia e sono dei pazzi furiosi ed è molto intrigante perché innanzitutto perché qua vedete una suora ma non crediate di essere di fronte all'ennesima boiata la the conjuring questa suora e scoprirete cos'è ma non ha a che fare con spiriti fantasmi con lenzuolo bianco no qua le idee sono molto molto più fighe nonostante questo sia un film comunque non riuscitissimo che a me piace sono stra felice di averlo in collezione mi piace appunto per le idee che a questo è un film pieno di idee fighissime ci sono dei bambini molto particolari ce n'è uno fissato con con i comportamenti militari ce n'è uno che ha disturbi di identità di genere anche se poi vabbè parlare di disturbi adesso io non mi intendo dell'argomento quindi non vorrei essere offensivo comunque diciamo che non si sente nel suo genere insomma sono già tematiche molto 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 forti nel 1974 ragazzi gli argomenti di cui parlano i personaggi sono molto più schietti più come dire meno bigotti di quelli che sentiamo oggi nei film è veramente un film incredibile incredibile ci sono appunto questi bambini uno più pazzo dell'altro delle degli esperimenti registici che non so se possiamo definirli riusciti ma sicuramente audaci e intriganti da vedere scoprire come ad esempio la prima decisione che dura ben quattro minuti di slow motion cioè su quattro minuti detti così non vi sembra tanto ma nel film vi sembreranno tanti vi darà delle emozioni molto particolari questa cosa comunque il film è appunto come dicevo non un film riuscito addirittura tanti problemi al montaggio i bambini che facevano già parte di altre serie televisive durante le riprese si sono ripresentati durante le riprese con i capelli diversi quindi ci sono evidenti errori di capigliatura parrucche messe male è ambientato tutto d'inverno con la neve ci sono scene dove non c'è la neve insomma è stato un po un casino però alla fine dei conti secondo me è un film che è talmente weird talmente strano che ha un suo perché piccola curiosità uno dei personaggi è l'attore che poi diventerà il famosissimo boss hog della serie tv hazard che dire ragazzi per me anche questo qui è notevolissimo è molto molto particolare che è quello che io cerco spesso nei film sono felicissimo di averlo in collezione gli ultimi due sono un po un altro due follie pazzesche ragazzi decidere non l'ho manco aperto adesso lo aprirò perché lo guardo stasera questo è una roba ho visto il trailer è una roba c'è dei bambini che anche qua ecco i bambini che diventano cattivi ammazzano io amo queste cose questi sono bambini cattivi che avanzano con le braccia tese così tutti i zombeschi insomma bambini inquietanti in questa città di provincia sembrerebbe a seguito di una fuga di gas asfissi entri provenienti dalla centrale nucleare quindi c'è il tema del nucleare iniziano a uccidere eccetera insomma anche questo mi intriga parecchio e lo ve ne parlerò poi in seguito magari in una live e poi un'altra grandissima questa questa deve essere veramente questo forse il più trash di tutte le uscite è jesse james meet frankenstein che insomma è un western horror dove c'è un frankenstein che che forse riesco a farvelo vedere e sembra un culturista insomma western horror con frankenstein se non è trash questo deve essere veramente una una roba assurda non credo di aver mai visto un film così con un contesto del genere adesso ve li riprendo tutti allora rimetto così che sono più eccoli qua sei uscite meravigliose secondo me per veri collezionisti e cultori dell'horror vi lascio il link in descrizione per acquistarli tenete d'occhio la spaghetti horror perché escono adesso in questo momento in cui vedete questo video sono già usciti i quattro film di ed wood regista considerato il peggior regista del mondo quindi come si fa a non andare alla ricerca di questi film grandissimi spaghetti horror vi ringrazio ancora per i film e ci vediamo al prossimo video